faccio vedere le macchine guarda come vanno piano le macchine è la strada più come si dice che ha più curve in tutto il mondo e hanno fatto tutte queste curve questi ritornanti strettissimi perché la sala era troppo in pendenza hanno fatto se ce la siamo fatta tutta dalla sotto immaginate un po dalla sotto proprio morti